Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Con queste accuse è stato arrestato all'alba dalla polizia un giovane 23enne di San Michele di Bari, ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica suprematista americana The Base. In casa del ragazzo, considerato pronto ad azioni violente, sono state trovate armi ed anche documenti antisemiti, ispirati dall'attentato commesso nel centro di Baffalo a maggio scorso, dove furono assassinate dieci persone. Grazie a tutti.